E' bella toccitiera, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo su Fortnite con Jacopo, saluto a Jacopo Saluto, a tutti, brindo questa ricetta bagnata, oggi ho un fruccio che mi ha mancato Allora, se sentite questa musghetta che mi sono messo, Jingle Beats, la mia musighetta di Natale Perché mi sono messo il mio armadietto di Natale, perché ho un armadietto per qualsiasi cosa, no? Allora, questo qua, supereroe, questo qua, ninja, marshmallow, quello di Natale, quello di Halloween, quello di Alexa, con cosa da dietro, vabbè Quello supereroe più Among Us, questo qua a caso, questo qua a caso, questo qua a caso Questa è la maghetto Samu Pro, questa è la maghetto Samu Pro, questa è la maghetto Samu Pro, questa è la maghetto Samu Pro La maghetto Samu Pro L'abbiamo comunque, visto che noi abbiamo iniziato nel 2020 No, nel 2021 a fare le sfide No, no, quella dell'anno scorso, quella del 2022 l'ho vinta io, quella del 2021 l'ho vinta io, questa non c'entra, questa è una amichevola che ho sfidato Jacopo E inizio 2023 ci sarà un'altra amichevola che dirigerà un altro che è più forte Sì, forse, non so Jacopo, 31 dicembre? No, 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 non so, magari di pomeriggio? No No, 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 happeniglio di sera Ora Vabbè, poi vediamo, non cercherete l'insieme, ma poi non facciamo niente Questa è solamente una amichevole Vengate quale vostro youtuber preferito Io non li Michaeli工 si lascerò io, comunque io non è che seguo tanto youtube, mi vedo solamente cose di cat e poi non posso variare poco poco, oppure cose divertenti vabbè comunque ci deve essere il suo youtuber preferito o qual è? uno youtuber che mi dà notizia, cosa che dà notizia di fortnite vabbè comunque dai, queste armi vanno bene, vai iniziamo aspetta questa cosa, ok 3d1 vai non vale non vale Jacopo eeeh tutto vale non lo so da pure non vale, solo gli scildini valgono ah li hai visto? c'è le buste, il tuo blower 3d1 via non vale porca loca comunque a questa amichevole che arriva a 10 kill ha vinto 1 pari ok, kill è mia, 1 a 1 a partire da, dopo 5 kill, tipo, o dopo, no dopo 3 kill, effetto libero, tipo senza costruzioni così a fare la scala così, te 2, 1 via no, 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 no ok che bello giocare con Jacopino ma se mi ammazza la sclero ma se mi ammazza la sclero ho toccato i fili, cavolo c'è 5 giorni all'evento di fortnite non si sapevano la live comunque vi lascio comunque c'è scritto il codice della mappa la sopra la sopra, ma poi ve lo lascio anche il link in descrizione ahah ahah se comunque arriviamo a 5 kill e ce lo diamo tutti i quali ci sono i supplementari e non mi 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 ahah ahah questo non è indicato provare vale ah ah e stiamo quattro e due jacobo credo che non c'è tanto il commentario mi manca una chile arrivo a cinque chile vai via ora non vale così no 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 scusa eh non è questo gioco te lo dono via io come te costruisci sempre non è colpa me se costruisci sempre ma te sei un anche sono livello 80 non lo sapevo ragazzi faccio due chili ora vi la produccio ora che te pure le hai fatto una costruzione ah chiaro chiamo perché lo strisci molto da oh è finita di costruire tra un po il mio compleanno sono quasi 10 quando è questa non vale vai su sei chile non vale no questo non vale ho bruciato io come va bene non vuole cliccare il pulsante ma te costruisci sempre è impossibile batterti così siamo sei a quattro sei a quattro stiamo si può cliccare solamente una sola volta fatto con il pulsante ok ci si ci sono tu Mi ricordo uno che tanti anni fa giocavo con uno che mi assoltava, mi prendeva in giro. Noi mi prendeva in giro, facevo i dispetti. E tu mi fai i dispetti e poi ci picchiamo per giocare lottiamo. Ma che lottiamo a fare, lasciami stare e poi ci picchiamo. Svegliate qualche calcolo. Ma adesso andiamo a concentrare. Sto pure vincendo. Ti poco preso? Raga scrivete nei commenti che squadra ti fate. Io è Jacopo e la Juventus. Una chino e due di me c'hai! Non ho ben vettaggio, non vuoi ricaricare! 3, 2, 1! Con il coltone si può prendere una sola volta, si può cliccare una sola volta tanto. Un bel coltone! Non puoi ricaricare! Un bel coltone! Un bel coltone! L'alcolto, lo hai in caso! Un bel coltone! Allora! Un bel coltone! 7 kg, 7 kg, 7 kg 2,1 3,2,1 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,2,1 3,2,1 3,1 un vattaggio per samuel che ha fatto danno a jacopo no siamo 7 pari tu eri stato curvo perchè non hai tolto più vita fammi curare fammi curare fammi curare 8 a 7 3,2,1 ho fregato non è vero 8 a 8 8 a 8 3,2,1 aspetta che c'è questa della cacchia ok ok vai vai ok 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 la competizione vincenno io ok riesco ad ucciderlo ok bianco io sono ancora 174 ok siamo 9 a 9 perché una kill non vale a tutti e due ok questo è l'ultimo round non è che potrà dici il destino poter dici tra chi vince Grazie a tutti. no non vale l'avevi fatto già oh me l'ho dimenticato scusa oh stai spammando allora facciamo l'ultimo l'ultimissimo no no non ti provare però ho vinto io ormai vabbè ha vinto ghiacoboschi spero tanti che questo video vi sia piaciuto lascio il like e attivate la campanellina vi lascio il codice ve lo metto in descrizione ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ah prima di chiudere il video un'informazione vi dico l'informazione allora scrivete nei commenti dei giochi e se arriviamo a 30 like a questo video sceglierò uno di quei commenti e lo porterò sul canale a posto che non sono giochi horror o giochi che ha poco avvento ciao ragazzi ciao cdl ciao cdl